Il Big Mac io volevo, il Big Mac E un Sunday al caffè Buonasera a tutti ragazzi Bentornati sul nostro canale con un nuovo video Ci scusiamo per la qualità ma è quello che possiamo fare Oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a mangiare il Mac finalmente raga Sì però non sarei così tanto felice se fossi in te Ci sarà la ruota della fortuna A decidere quello che mangeremo Dio santo speriamo bene Abbiamo scelto due panini a testa più uno schifosino Stessa cosa per le bevande e per i McFroary Iniziamo subito perché io ho tanta fame e questo non si muove Cioè raga, addio santo È la girandola Andiamo con i panini Pari? Dispari Bim bum bum Inizio io I panini che ho scelto io sono Pisces Grand Crispy Back Bacon E Crispy Chicken, come si chiama quello? Wrap sì E invece quello schifosino è il filetto fish Mentre Danny ha scelto Il Mac Toast, il Big Mac, il My Selection, il BBQ E il Mac Toast è quello un po' schifosetto Giriamo e vediamo cosa avviene fuori per me Mamma mia che paura No Big Mac, no Mac Toast! Il Mac Toast, ma dai, ma come si fa? Dai, no, no, no Cioè io che ho fame devo mangiare il Mac Toast Giro a Danny Aiuto fuorissimo No, no, no No Per un pelo che non capitava il filetto fish Invece Spicy Grand Crispy Back Bacon Tra l'altro è il nuovo panino del Mac Andiamo alle bibite Se non c'è nel menu la bibite non c'è Quindi va direttamente Danny Te alla pesca che l'ho messo io Perché io ho messo Te alla pesca, acqua naturale e Sprite Mentre lei il resto, insomma Il Big Mac io volevo Il Big Mac Andiamo al dolce Speriamo almeno quello Sennò non mangio gente Sì Sundae Non so come si scrive Sundae Al caffè Vai Danny No, no, no Al pistacchio, sì Sì Ci vediamo direttamente allora al Mac Drive Così siamo un po' più veloci Mangiamo al Mac Drive Commentate qui sotto se volete un altro video del genere Scrivete altre idee da fare al Mac E un Sundae al caffè Sundae Basta, basta Ok, sono 17 Prossimo sportello, grazie Tu ridi tutto il tempo Non ce la fai a stare in silenzio No È arrivata la roba Dopo un'ora Il Mac Toast E lei ha il Mac Breast Mac Crispy Crispy Tieni il tuo Mac Crispy Spice Premi Ah, questo è il mio Mac Toast Ah, dai Suggiamo questo tè Scrivete se siete Timpè, pesca O Tim Limone Limone Boh, non è buono sto tè È caduto il gelato al pistacchio perché l'hanno lanciato Guarda qua Madonna Speriamo se è buona Avvicina lì Boh, il mio è questa roba qua Buono Questa è la mia cena Un po' croccante Sai che pensavo molto peggio Ragazzi, assaggiamo sta roba È felacidissimo È felacidissimo Neanche i sapori mi piacciono Non mi piace niente Tentiamo la sorte con queste patatine che fanno sempre schifo Vediamo oggi Grazie Grazie Finalmente non sono fiappe e sono salate Le migliori patatine che abbia mai mangiato al Mac Prendi un faccioletto per carità Buono Io ho ancora fame È buono, non ho mangiato niente Io non ho più fame Sì ragazzi, voi non sapete molte robe Io ho comprato il telefono Aspetta Sei cattiva Non era quella vloggida per quello L'ultima volta che abbiamo fatto il video in un fast food Che era al Burger King Drive Avevo un altro telefono Era un Samsung S23 Poi me l'hanno rubato barra perso Quindi non c'è più Quindi ho riutilizzato quello vecchio Mi è caduto ed è morto L'ho risuscitato Tutto questo è successo in questo tempo E adesso andiamo al gelato E al Sandy Dammi un po' di tè alla pesca No Oh, che schifo È orribile Ma cos'è? È buono, è sparacchiato Ma questo Dai Boh, mescola Inizia a mescolare No, io non mescolo sta roba Come no? Te la mangi tu sopra E io mi mangio il gelato sotto No, no, devi mescolarla No, io non la mangio tutta Sì? Questo è mio No, è mio No, tu hai un altro No Ma il Sandy è tipo un gelato Sciolto Sciolto Non sembra male Mi mangiartelo Sa di ice caffè Di caffè zero sa Buono Mescola Pensavo peggio questo Mescolalo però Invece ho messo da sopra Dai Mescolalo per favore Tieni No Ma portati quella Mio Mc Toast buono Anche se molto poco sostanzioso Ma Non me l'hai neanche fatto assaggiare No È una briciola di coso Quello Un bel otto Il mio era buono Otto sì anche il mio Le patatine buone Un sette questa volta Il tè è orribile per me Insufficiente cinque Non ho mai messaggiato un tè alla pesca così schifoso Questo molto buono Un bel otto e mezzo Per me è un sette E niente ragazzi Il video finisce qui Speriamo vi sia piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale Che il 60% di voi non è iscritto Quindi se vi iscrivete ci aiutate Un minimo ma ci aiutate Commentate con quello che vi avevamo detto E quindi niente ragazzi Non c'è nient'altro da dire E quindi ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao